Daniele, innanzitutto facciamo un quadro della situazione, insomma come procedono gli allenamenti perché se l'estate in pausa forzata la partita con Scauri non si è giocata? No, gli allenamenti sono ripresi normalmente, ci siamo allenati anche ieri perché appunto siamo stati fermi, bloccati dalla neve e dalla situazione che c'è qui a Teramo e quindi siamo ritornati sul parker per allenarsi pronti alla partita di domenica. È un momento delicato, nel senso venite appunto da tre sconfitte consecutive quindi adesso ci sarà una trasferta a patti, ti chiedo ecco partita non dico fondamentale ma quasi, insomma bisogna invertire assolutamente questa rotta. Esatto, siamo consapevoli della situazione e della partita che è molto importante come dici tu per riprendere un cammino positivo e arrivare a un obiettivo che per noi, almeno per me è importante che è quello dei play-off. Le tue condizioni fisiche adesso? Ti sei rimesso dopo l'infortunio di Cefalù? Sì, lo zigomo ha una tempistica sua di riparazione, sto allenandomi con la maschera e quindi sì, sono pronto per la partita di domenica.